Volei, la Lube si prepara alle sfide di campionato e coppera, forza anche le sue risorse economiche, firmato l'accordo per un nuovo sponsor. Volei, la Lube si prepara alle sfide di campionato e coppera, forzandosi anche economicamente, siglato un accordo con un nuovo sponsor che aiuterà la società a programmare un futuro ancora ad alto livello. Pierpaolo Rivalta. Più energia alle ambizioni della Lube, la società acquisisce uno sponsor di livello nazionale stringendo un accordo biennale, un matrimonio tra vincenti, quello tra Lube e il gruppo Estra, attivo in particolare nel settore del gas e dell'energia elettrica e molto presente nelle marche attraverso alcune società come Multiservizi, Piceno Gas, Prometeo e Gasmarca, insieme per rimanere leader. Ma ne abbiamo bisogno, significa anche per la Lube acquisire un'ulteriore conferma della bontà di questa nostra avventura sportiva. Estra è una società di origine pubblica che viene dalla Toscana ma ormai cresciuta a livello nazionale, ma ha scelto la seconda regione vera e propria, è stata scelta nelle marche appunto, dove siamo i leader nel mercato dopo una serie di acquisizioni. Abbiamo scelto la Lube come prima squadra. È una situazione molto importante per la Lube perché ci permette di avere delle garanzie, non solo per quest'anno ma anche per il prossimo anno, di confidare con l'apporto di queste aziende la possibilità di programmare anche una squadra sempre protagonista. Siamo, come dire, convinti che questa squadra possa darci molte soddisfazioni non solo in termini di immagine ma anche di risultato, quindi saremo il primo sponsor della Lube dopo appunto la Lube stessa. Estra metterà il suo marchio sulle divise anche se in posizioni diverse tra Superliga, Champions e tutte le altre competizioni, oltre che sul campo da gioco a Civitanova. In attesa di confermarsi i protagonisti, la società schiera 5 moschettieri e l'allenatore Medei e anche i vertici di Estra ora si stropicciano gli occhi.